Però decidono i giudici, rispetteremo la sentenza dei giudici. Io penso che Silvio Berlusconi in campo sia una persona che succede. E a parte la foto di Berlusconi, vede che... Ma quello è un leader che unisce? Ma quello è un leader che unisce? Sembra un incrocio tra un santino di un patrono locale calabrese degli anni 30. Ma quello è un leader che unisce? Unisce tutto tranne che i bottoni della camicia? Un metabolismo... Grazie a tutti.